Amici sportivi della FCW, da grande wrestling, ben ritrovati su FCW, è passato veramente tantissimo tempo, ok? Ci dispiace per questa lunga attesa dal luglio del 2017, che non ci vediamo qua sul canale di Freshmaker Championship Wrestling, ma purtroppo ci sono stati problemi tecnici, non c'è stato più tempo di portare avanti FCW, ma adesso siamo tornati ogni settimana qua sul canale di FCW, il grande wrestling di YouTube, andiamo subito a vedere che cosa vedremo questa settimana, che cosa era rimasto insospeso l'anno scorso, Maurizio Merluzzo vs Chef Rubio, due amici un tempo si volevano bene, cotto e frullato, era il loro tag team, ma ricordate cos'è successo, Chef Rubio era geloso di Maurizio Merluzzo che è campione di YouTube, Maurizio Merluzzo è sempre stato al top di FCW, Merluzzo ha sempre dominato, Rubio invidioso ha attaccato suo amico, e oggi vedremo uno contro uno un match valido per il titolo di YouTube Championship, e poi ci saranno anche il titolo di campioni di coppia on the line, i profughi Zwei, Gainauts e Don Cappuccino, afforderanno sì Freddy in mano del castro, i due sporcaccioni contro i due profughi, amici sportivi, vi ricordate che cosa ha fatto Ciccio Taker, l'anno scorso, ok, voleva riportare in vita una superstar, una celebrità, e ha riportato in vita Bud Spencer, che oggi andrà uno contro uno con il nostro profeta, l'incredibile Matteo Montesi, e il main event finalmente del tantissimo appeso, il ritorno di Yotobi contro Michele Posa e Luca Franchini, l'attuale campione di FCW, un match che aspettavamo da secoli, rivalità, una storia, in questo Triple Threat Leather Match, un match con la scala, che vedremo qua in FCW, ma partiamo subito con il grande wrestling. L'incontro è valido per il titolo di FCW, YouTube Champion, Eccolo che arriva, il traditore, ha messo le mani addosso a suo miglior amico, perché lui era meglio, C'è proprio amici sportivi, eccolo qua che sta facendo il suo ingresso, sul ring di FCW, si deve solo vergognare di quello che ha fatto, ha attaccato il suo amico alle spalle, mentre stavano festeggiando la loro vittoria, ok, Death Bastard, questo bastardo, si merita solamente di essere messo in galera, e basta, e questo è quello che penso io, ok, E' molto arrabbiato, ma adesso, adesso ci pensa Merluzzo, assiste Marti a dovere, ok, lui ti frulla, Sta tendendo la paura dei suoi occhi, guardate un po', Eccolo qua, il nostro FCW, YouTube Champion, amici sportivi, ok, Maurizio Merluzzo, Stava aspettando da tanto tempo questo momento, stava aspettando da mesi di mettere mani addosso al suo ex miglior amico Chef Rubio, L'invidia è una brutta bestia, amici sportivi, e ora vedremo questi due sul ring, sono pronti a tarsare di Santa Ragione, eh, Vediamo poi il nostro campione, Ok, si, si, questo gesto lo conosciamo bene, sta scrivendo caratteri cubitali, che Chef Rubio andrà all'inferno frullato dopo quello che ha fatto, ok, Eccolo qua, la cintura di campione FCW YouTube, Titolo prestigioso, ultimo titolo di FCW, Ecco che si parte subito al Rubio con un caccio, un clincio al centro del ring, e via via, le va dietro, Forza, German suplet, Superdreamer, Oh oh, no, they have German suplet, but a body drop, here a headlock, Merluzzo è molto arrabbiato, io ve l'ho detto, Merluzzo è incazzato nero per quello che, Chef Rubio li ha fatto, e ginocchia in faccia, Boom in terra, Chef Rubio si è messo nei guai, a tradire il suo miglior amico, E ora, è talmente irrato che non riesce, boom, Un calcio dello stomaco, Irish Sweep amici sportivi, e cosa vedremo adesso, boom, Un calcio in corsa da parte di Chef Rubio, ok, Prende la gamba, forse vedremo un Boston Crab, no, boom, Colpo alla gamba, trascina il suo avversario al centro del ring, cosa vuole fare? Li riprende la gamba di nuovo, e via, ci va lì al drop, Separare la muscolatura del suo avversario, lo rialza, Prende per la teta, adesso cosa vedremo? Lo porta a Chetering, se lo mette sotto, Ah, suplex, snap suplex da parte di Chef Rubio, Che vuole il titolo di campione in YouTube, eh? Lo vuole, lo desidera altamente, Oh, ops, Bellino Belli suplex, un ponte, Un arcobaleno è stato creato qua sul ring, e boom, Lash Sweep, Comitata in faccia, povero Merluzzo, Che alza Rubio, Rubio va alle spalle, Lo prende, lo gira, e oh, boom, Fireman Carry, la mossa del pompiere, Lo prende sotto la sua ascella, lo solleva, cosa vedremo? Backbreaker, spezza schiena da parte di Maurizio Merluzzo, Il nostro campione YouTube, e via di Headlock. Mossa di sottomissione, Da parte del doppiatore, Che butta in terra il suo avversario, molto arrabbiato, eh? Boom, in faccia, l'avambraccio, ah, jawbreaker! Oh, ops, Rubio! Boom, una Brain Buster! Era Rubio, alza il suo avversario, niente da fare, back body drop, Marese Merluzzo di nuovo, al volante di questo match, niente da fare! Un arm drag, e Rubio, boom, DDT! Damian Dennertime, mossa inventata dalla Hall of Famer di Damian, oh mio Dio! Oh mio Dio, uno, due, e niente da fare, cosa volevi fare, cosa volevi fare, sei disperato, adesso hai capito la cazzata che hai fatto, hai capito tutto quello che ti sei messo in contro a crucifix! La mossa del crocifisso adesso alza il suo avversario Merluzzo, lo pride gira a braccio e boom! Staccare braccio, staccato dal suo corpo! E via lo butta fuori il Ray! E l'azione si sporta vicino al tavolo di commentatori che io fortunatamente non sono tra quelli lì, anzi, non so chi siano quelli, boom, di nuovo DDT! Come stavo dicendo, la mossa inventata dalla Hall of Famer, Jake the Snake Roberts! Oh, un arm drag! Lo solleva, solleva il suo avversario e boom, lo riporta su ring! Gomitata in faccia! L'abito stava iniziando a contare il count out! Merluzzo se lo porta sotto, oh boom! DDT anche lui! Mossa caratteristica, forse adesso vedremo la mossa finale di Merluzzo! Merluzzo prova schienamento! Uno, due! Oh, nothing to do! La spalla si alza e conteggio, si ferma! Oh mio Dio! Nonostante tutte le botte che ha preso, Chef Rubio ancora, boom! Oh my god, a Diamond Cutter! La mossa! Che spacca i diamanti! E ora si porta su seconda corda, cosa vuole fare? Oh my god, cosa fa? Sta guardando il suo avversario dall'alto! Nooo! Ha provato la mitata, ma graffiato sulla schiena! Merluzzo! E ci siamo! Cotto e schienato! Mossa finale! E via! One! Two! Oh, what? What? Unbelievable! Rubio ancora tra noi! Ah! Legbreaker! Oh my god! Incredibile! Rubio è scappato! Oh oh! Vedo del sangue amici sportini! Merluzzo ha aperto in due la fronte! Il Chef Rubio che si è alzato con mossa satanica! Non si sa come è fatto! No no! Invertita! Oh my god! Wow! Una springboard! Neckbreaker! Si alza adesso! Gira il suo avversario! A Frank Steiner al contrario! Che varie testate! Oh my god! Oh no! Oh no! Amici sportivi! Forse vedo il nuovo campione YouTube! E va a schienamento! Va! Two! Eh no! Questo è campione Merluzzo! Guardate! Con che tenacity! Con che tenacia! Vai di gomitare! Continua a gomitare in testa il campione della piattaforma! Oh oh! Ci riusciamo! Rubio monta su seconda corda! Guarda il suo amico dall'alto! Dice! Sono io adesso! Il capo del mondo! Sono io top of the world! Prova gomitata! Ma fallisce! E ci riusciamo! Una legbreaker! Da parte di Maurizio Merluzzo! E prova lo schieramento! One! Two! E niente da fare eh! Viene spinto via! Dal suo ex miglior amico! Competition a little! Cosa vuole fare adesso? Merluzzo! Via! Snapmare! Oh oh! Ah! Nello stomaco! Che ha ingerito tantissimi furlati! Oh no! Eccola qua! Gira! Rush a leg sweep! Merluzzo! Alza il suo amico Chef Rubio! Ok! Lo prende sotto! Oh oh! DDT! E via! Basta! Tutti a casa mamma! Butta la pasta! Perché qua abbiamo finito eh! Qua abbiamo finito! Chef Rubio! E' morto! Si va! Schieramento! One! Two! Non ci posso credere amici sportivi! Non ci posso credere! Cos'è? Lo prende per le narici! Guarda! Boom! Irish whip! Rubio all'angolo! Ah! Respinge! Merluzzo! Oh my god! Oh my god! Frank Steiner! Eccolo che va! Soprase con una corda e ce la fa! La vomitata riesce amici sportivi! Oh my god! Standing falconero! E' la fine! E' la fine! One! Two! Nuovo campione di... Oh my god! Merluzzo! Resiste! Merluzzo! Can seri di colpi! Bravo suplex! Uh oh! Oh my god! Oh my god! One! Two! Three! Oh my god! We got a new champion! No! No! Not on Aaron Tre! Oh no! Oh no! Oh no! Inverted DDT! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! A terra! Amici sportivi! Che gara! E l'ho alzato! Cotto! E schienato! E dopo questa! Non si scappa! Uno! Due! Oh! What! Non ci posso credere! Io non ci posso credere a quello che sto vedendo amici sportivi! E' impossibile! E' impossibile! Questo match ha qualcosa di incredibile! Grande ritorno scopiettante di FCW eh! E' BOOOOO! Nella testa! Che è schienato contro il paletto d'acciaio! Oh! Cosa vuole fare Rubio? Cosa vuole fare Rubio? Lo prende eh! Back suplex! Qualcuno ferme l'incontro! L'arbitro è spato! E prova a schienare! Two! Three! Oh my god! Se l'arbitro solamente avesse contato! Avremmo avuto un nuovo campione di YouTube! Ma cosa sta facendo l'arbitro? Sta facendo una penica lì su! Oh my god! Invertability amici sportivi! L'aggressività la rabbia! In faccia in volta di Chef Rubio nelle sue azioni vediamo proprio invidia! Frustrazione! Prova a mozza di sottomissione! Prova a mozza di sottomissione! Prova a mozza di sottomissione! Tentami sottomettere il Merluzzo! Il Merluzzo si scappa da mozza di sottomissione! Boom! Al gomito! Lo solleva! Rubio! Eh no! Irish Whip! Rubio si va su le pro ring! E via fuori da ring! E quella lì che fa le foto mentre queste si stanno sciagattando dalle morte! Ma che che cavolo fa con la ticcia lì? Su una fila! Eh! Attenzione! Ubi si rialza! Butta Merluzzo la gomita in faccia! Oh! My god! Lo solleva! Lo gira! Niente da fare Merluzzo inverte la mossa! Dai! 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 Oh! Snap Mer! E prova a mozza! Questa mossa di sottomissione al centro del ring amici sportivi! Chissà se Merluzzo accederà! Il titolo di campione FCW è in palio! Campione YouTube FCW! Scusate l'errore ma sono emozionato da questo grandissimo match! E via via di nuovo Headlock! La stessa scuola di questi due wrestling si vede eh! Si vede che sono stati amici! La stessa mossa! Oh! Ma l'amici c'è finita! Tutto rotto! Non si ripara più! Oh! L'arrabbiato dice! No! No! Sono io! No! 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 Non è possibile! No! Nemmeno Merluzzo ci crede! Guardate! Nemmeno Merluzzo ci crede! è che si sopravvissuto! Ma come è possibile che? Sì proprio se sopravvissuto tre cotte frullato! Cotte schierato! Scusate! Attenzione! Irish whip faccia sul cuscinetto ma merduzzo non ci sta guardate come combate e porta il suo avversario dove? alle corne lo porta alle corne e via 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 fuori dal ring si porta allo scontro oh my god proprio un suicide dive ma ciò da parte di se è rubio e via lo riporta su ring gomitata sono quasi senza vota già prima match q nfc w e dice dai su forse alzati non sei così tanto tuff così tanto duro come sempre oh oh one two ah ok match meraviglioso qua uno dei più bei match di fc w history assolutamente assolutamente buona prevede di me backbreaker spazza schiena era di nuovo mossa di santa missiare palazzo sarai due non può intendere di forse il suo avversario merluzzo alza chef rubio boh mi intera un cat fight una battaglia da 5 minuti sembra ok cosa vedremo qua oh my god una piledriver piledriver e via basta così ok 1 2 3 merluzzo ancora il campione di youtube che match incredibile amici sportivo ritorno scoppiettato per fcw ok fcw youtube champion maurice merluzzo detiene ancora ma tiene il titolo contro il slags amico sartorio cosa aspetterà questo grandissimo campione ma adesso facciamo il prossimo match che lo vedremo per qualche giorno qua in fcw